Grillo è stato accusato per l'ultima scemenza che ha detto nel suo comizio mettetevi il passamontagna, fate le brigate di cittadinanza e andate a sistemare le città. È stato costretto addirittura a fare marcia indietro. Però io vorrei dire tre cose. La prima, non ci si può stupire di quello che dice Grillo, non è mica la prima scemenza che dice. La seconda, il problema non è tanto di Grillo, ma è della Schlein. Allora, veramente vuole allearsi e portare tutta la previsione del PD alla corte dei grillini di Conte con la sardina Giasmina addirittura che bacia la mano di Conte? È questo il destino del PD? Chiedetelo all'armo cromista se verrebbe da dire. Ma la terza è un'altra. Grillo non capisce neanche chi sono gli elettori di 5 Stelle. Gli elettori di 5 Stelle votano 5 Stelle per avere il regno di cittadinanza, perché non vogliono fare un cazzo! Figurarsi se si mettono a pulire le strade col tombino. Non è una questione di passamontagna, ma neanche a volto nudo. Non lo faranno mai! No? C'è un elettore 1 perché vota Grillo? Per ricevere dei soldi senza fare nulla. Quindi state tutti tranquilli, non ci saranno le brigate di cittadinanza, non ci saranno passamontagne, non ci sarà nessun grillino che farà qualcosa per la comunità. Grazie! Grazie! Grazie!